Sicuramente mi viene in mente da un lato gli attentati terroristici che hanno segnato quel periodo storico e dall'altro anche però la mobilitazione sociale della società civile organizzata dalla politica, dalle istituzioni e anche dal Consiglio regionale che ha saputo combattere il terrorismo e superare questo momento così buio della nostra vita.